Una battuta, coach grazie, allora è sempre difficile commentare una sconfitta dove nel primo quarto e nell'ultimo quarto di fatto non siete riusciti a fare canestro? Il primo quarto e gli ultimi quattro minuti perché eravamo 42 pari quindi penso che alla fine, però è inutile che stia qua, giochiamo a pallacanestro e se non segniamo mai diventa difficile. In partite come queste dobbiamo stare più attenti dietro dove loro negli ultimi quattro minuti hanno sempre trovato canestro anche grazie ai nostri errori e noi non abbiamo mai trovato un canestro. È un momento così, dopo la bella prova a Broni abbiamo avuto diversi problemi ma che non devono essere scusanti, il basket cambia velocemente nel giro di pochi giorni, è inutile che stiamo qua a piangere, abbiamo una partita mercoledì, dobbiamo pensare alla partita di mercoledì e poi risetteremo tutto e vedremo come siamo messi. I punti sono quelli che ne abbiamo buttati via per strada, ne abbiamo recuperati altri su campi difficili, qua peccato perché nonostante l'inizio siamo andati anche davanti, mi sembra 42-41, 42 pari e poi 15-0, non è inutile che stiamo qua a raccontarcela. Bravi loro e pensiamo da domani mattina al derby di mercoledì. È l'occasione migliore per chiudere questo anno solare e poi ritrovarsi nell'anno nuovo? L'occasione migliore è se andrà in una determinata direzione, dobbiamo andare in campo e cercare di essere quelle che eravamo dieci giorni fa in partita ma soprattutto in allenamento, quindi non dobbiamo pensare a chi troviamo davanti e dobbiamo pensare solo noi stessi.